amici ma soprattutto gli amici bianconeri buongiorno ragazzi buongiorno quindi ascoltando l'ultimo ma il penultimo video di gianni balzarini si evince che la partita con l'inter non desta preoccupazione a livello di preparazione a livello di concentrazione perché una partita che si prese che si prepara da sé e grazie a cazzo e grazie a cazzo ma invece quella con lemboli come lui aveva il sospetto che poi si è dimostrato fondato quelle sono partiti che difficilmente sono più difficili a preparare quindi tu stai ammettendo con molta eleganza con molto nonchalanzo con molto nonchalanzo che praticamente in panchina non c'è un allenatore perché se interi juventus vivendo su milan juventus reale juventus manchester juventus napoli si preparano da sole giusto ma invece juventus siena juventus empoli juventus canica ti bagni devono avere un allenatore che prepari la testa che con che faccia concentrare i giocatori quindi questo noi non ce l'abbiamo quindi tu hai ammesso hai ammesso nella tua purtroppo non dico stupidità ma ma hai ammesso hai ammesso in poche parole che alla juventus non c'è un allenatore e che cazzo ci vuole preparare juventus inter o intervento è normale è normale un vero allenatore un vero allenatore è quello che prepara la partita quella meno 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 complicata meno difficile sulla carta sulla carta vittoriosa lo è ammesso lo è ammesso lo è ammesso quindi non devo aggiungere nulla non devo aggiungere juventus empoli era una partita che a bocca tua era ormai una una partita che il gol lo facciamo sicuramente una partita presa sotto gamba quindi questo è l'allenatore che noi abbiamo le partite quelle facili non riusciamo a concentrarci lo è ammesso non è che l'ho detto io lo è ammesso tu e purtroppo gli scudetti gli scudetti si perdono con le piccole gli scudetti si vedono con le piccole e quindi io io non dico niente io riporto quello che tu hai detto io riporto quello che tu hai detto quindi basta non devo aggiungere nulla ti sei smascherato ti sei smascherato cercando invece di pensando di invece di dire non so che che cosa invece hai completamente certificatamente detto la verità visto e considerato che un allenatore incapace di non per di preparare una partita perché poi non si sa come la voleva preparare secondo me quello era un test che invece ti dico un'altra cosa juventus empoli era un test perché oggi se non ci fosse stata l'espulsione di milic oggi avrebbe giocato milic né chiesa e nei e nei edizio te lo dico io oggi avrebbe giocato ugualmente avrebbe giocato ugualmente milic non devo aggiungere nulla io questo è quello che ho sempre rimanoverato anche in zai che il sapere il difetto di in zai che quello di non sapere preparare le partite quelle difficili quelle facili scusate perché ripeto quelle facili quelle difficili sì 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 subito il giocatore la sede ma fa star sul pezzo nelle partite quelle dove sulla carta potresti anche rilassarti il vesli serve veramente un uno tosto tu l'hai detto io non l'ho detta tu l'hai detto io non l'ho detto io lo sapevo tu l'hai ribadito tu che sei un un difensore di allegri tu l'hai detto che lui puoi fare in conferenza a parlare rispetto qua paura in reale l'embo così vai in campo e tu dici che queste cose gambe molli ma veramente noi abbiamo gioco sempre così con tutti comunque oggi domani scusate secondo me ci sarà la staffetta almeno penso ci sarà la staffetta gli indizi chiesa chi parte di dolare questo non lo sappiamo vedremo più avanti ci sarà la poi la formazione io penso che partirà chiesa penso penso e poi gli indizi dove sarà quello che magari verrà sicuramente a cospetto di qualcosa al cambio con la staffetta appunto detto ciò ci prepariamo e ragazzi ribadisco io riporto le sue parole bravo 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 un abbraccio complimenti ma se ci fa anche come sempre fino alla fine alle dieci auto ok